Ecco il piccolo grande potere della stampa, seppur locale. Dopo la mobilitazione, compresa la nostra emittente con il TG e la trasmissione SOS Arezzo TV, il tronco che ostruiva il Sellina è stato rimosso. Grazie alla segnalazione di un cittadino residente in via romana, avevamo realizzato il servizio su questa incredibile svista degli enti preposti alla difesa del suolo. Il tronco, che adesso non c'è più, ostruiva il Sellina nella zona di San Marco dallo scorso ottobre e nonostante le ripetute segnalazioni, i cittadini continuavano a vedere quella sorta di diga ogni volta che passavano di lì. La preoccupazione dei residenti era ovviamente riguardo ad un'altra ondata di maltempo che poteva, con i corsi d'acqua in quelle condizioni, causare gli allagamenti dello scorso autunno. Questa mattina la notizia della rimozione, perlomeno di questo tronco, da parte dell'amministrazione provinciale, in particolare grazie all'interessamento dell'assessore alla difesa del suolo Antonio Perferi. Lo stesso assessore ha riferito ai cittadini che, per quanto riguarda l'abbattimento del bosco cresciuto attorno al corso d'acqua, è necessario un progetto più complesso. In chiusura però, permetteteci un piccolo commento. Bene sicuramente sottolineare che alla fine qualcuno se ne sia preoccupato, ma si deve sempre arrivare ad una mobilitazione per avere un comportamento attento e oculato da parte degli enti preposti? Qualcuno direbbe ai posteri l'ardua sentenza. Per parte nostra ribadiamo l'avvicinanza ai cittadini e la costante attenzione e puntualità nel dare risalto alle loro richieste ed iniziative.